Niente da fare per l'Assigieco Basket Piacenza, che nel terzo turno del campionato di Serie A2 perde per 88-54 contro la Reale Mutua Torino. Davvero arrembanti i padroni di casa, una delle corazzate del girone, che partono subito alla grande e in seguito chiudono il discorso con un parziale di 14-0 nel terzo quarto. Per i ragazzi di Saglieri c'è l'opportunità di rifarsi già domani, quando alle 18 affronteranno l'Urania Milano. Trionfale invece l'esordio nel campionato di Serie B per la Becquery Basket Piacenza, che piega Varese al Pala Becquery con un rotondo 180. Si temeva che i biancorossi non fossero ancora in forma visto il lungo periodo di inattività forzata, ma la squadra di Coach Campanella ha subito messo in chiaro le cose con un superattacco che ha mandato in doppia cifra ben 5 giocatori. E nello stesso girone sorride anche il fiorenzuolo di Coach Galetti, che in casa batte Olginate con un ottimo 89-72. Subito in campo il neo è arrivato all'Odi, ma è maggiotto con i suoi 21 punti a trascinare i valdardesi, che conquistano così la prima storica vittoria in un campionato nazionale. Grazie. Grazie. Grazie.